Chi era di Julio, dopo il 3-0 subito in gara 1 e l'1-0 di oggi forse eravate rimaste solo voi a credere in questa vittoria? Noi ci crediamo sempre, ci crediamo perché oltre che la palla è tonda, scusate l'emozione, ma per quanto riguarda la mia concezione non si molla una palla, quindi addirittura se si molla una partita non esiste. E vincere qui al palazzetto di Bustarsizio, forse tutti i pronostici erano contro di noi, però noi siamo rimasti soltanto concentrate, soltanto tra virgolette, perché comunque è molto difficile partire anche con 1-0 sotto il primo set in casa loro. Faccio i grossi complimenti a tutta la squadra, allo staff, alle ragazze che sono state tutte bravissime, chiamate in causa a fare anche la differenza e sono contentissima per le ragazze e per la società, ma questo non significa niente perché come Bust è venuto da noi, qui tutto da rifare. Le off sono una gara a sé e andiamo avanti. Possiamo dire che oggi avete vinto di squadra, al di là delle prestazioni di alcune giocatrici, comunque tutta la squadra ha fatto veramente una grande prova. Sono contenta, di squadra e di cuore.